bella come lo chiusa se qui è il team di the common block lag e oggi andremo a giocare una mappa intitolata try to die ovvero dovremo morire bellissimi soltanto che c'è un piccolo problema le particolta per tutto come moledizione questi qua non sanno usare i comandi quindi adesso io andrò a vendicarci vendicare anch'io dai ieri no sempre attivo a ripetizione e la migliore il peggior mappa della storia siamo gli unici che fanno ste robe e dopo questo inizio in cui abbiamo sistemato tutto direi allora se volete vedere il canale di questo qui potete anche vederlo e si chiama dei roti in game and il che bello in cui viene fluttuante che bello start game vieni qua con un strumento in manca allora non ho la legge che non aiutatemi se mi scappare vabbè tanto no tanto io la ho la come si chiama oggi si sono in creativo che è in modo che lui fa hanno accaduto ma cosa mi sa che deve essere in game o duro vero ma è perché ho la terra piazza blocchi ma lo so ha capito guarda un attimo ecco no a no ma sono in creativa ancora vale male che la bedrock con questa texture non è così male allora a me invece è orribile la fine pietra o via sai come possiamo morire qua invece di fare sta cavolata ti muoio io vieni qua ti uccido che brucca che mappa brutta muori muori quante cori ai bene c'è un mini zombie aiuto cosa succede cosa succede no no l'affogamento ma che serve l'affogamento quando hai queste bellezze qua che ti possono uccidere perché dovresti morire di affogamento ah ma sono spawnati ma sono spawnati dai meno male che sono belli perché c'è l'amo benz aiuto siamo in survival siamo in survival e io sono in survival aiuto aia cambiamo mappa ti prego no 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 va bene così dai barn sì sì però tu mi iscrivi e mi sponano gli scheletri mi posso far uccidere dagli scheletri ma che mappa è e questa è questa che cos'è ma cos'è non è lava ho sbagliato abbiamo finito la mappa bellissimo bellissimo ma è bellissima è bellissima è bellissima allora poi adesso mi sa che la vedete bella zitto mi sa che la vedete bella perché ho la texture però se io mi tolgo la texture e lascio quella normale vi faccio vedere che pugno negli occhi che è sto mondo adesso guardate guardate è meglio di prima guardate che pugno negli occhi che è questa cosa le camere erano un saluto da the command block lag e e con questo scenario apocalittico che rappresenta il lag ovvero il nostro lavoro che mi lagga perfino il menu vi salutiamo questa mappa è stata e ciao a tutti a tutti Grazie per la visione!